dolci super tranquilli bentornati è passata un'ora e mezza dal quando è stato fatto lo scorso video in questo light box in cui abbiamo inserito la stufetta con il timer quindi in quest'ora e mezza è stato accesa una mezz'oretta e come possiamo vedere la temperatura massima è salita di quasi 3 gradi adesso si è ristabilizzata a 16 che comunque è più di 14 a cui era prima e quindi possiamo dire che dopo questo primissimo ciclo già abbiamo guadagnato due gradi e non mi sembra poco facciamo un aggiornamento fra qualche ora piccolo aggiornamento sono le 4 e 40 ci siamo inadvertitamente sbagliati abbiamo lasciato la stufetta accesa più del dovuto perché reinserendo il timer abbiamo cliccato le levettine quindi è rimasta attiva per un'ora anziché mezz'ora udite udite abbiamo raggiunto una temperatura di 25 gradi che adesso si sta rinormalizzando verso 19 e niente piccolo promemoria quando si gestisce il timer molta attenzione perché un attimo sballare i tempismi cliccando con le dita aggiornamento delle 7 e un quarto la stufetta si è accesa rapida occhiata la temperatura è salita a 19 molto bene ovviamente qui segna ancora le 25 di prima a questo punto stiamo a guardare tra 24 ore come sono come si sono registrati i parametri soprattutto della minima mi piacerebbe se la minima domani risultasse 15 o 16 o ancor meglio 17 sarebbe veramente bello andiamo a saperlo aggiornamento del giorno dopo sono le 6 e mezza di sera il pattern sta continuando così come impostato quindi mezz'ora ogni due ore vediamo che la temperatura massima si è normalizzato sui 23 gradi e attualmente di base ci sono quasi 19 gradi che rispetto ai 14 dell'altro ieri sono comunque 5 gradi in più che è meraviglioso infatti come si può vedere la vita sta ampiamente scorrendo e ora aspettiamo ancora qualche tempo per un altro aggiornamento ultimo aggiornamento per questo monitoraggio delle temperature sono le 10 di mattina il lightbox è acceso da due ore c'è stata quella mezz'oretta di stufetta accesa abbiamo una temperatura di 21 gradi e come vediamo le minime sono passate a 14.8 ovvero quasi 15 da 13 che erano quindi in minima abbiamo guadagnato due gradi e le massime da 15 che erano sono salite 25 e quindi abbiamo guadagnato 10 gradi di conseguenza la media come si può vedere è circa una ventina di gradi durante il resto dei momenti andiamo a vedere nel dettaglio come è stata impostata la stufetta fondamentalmente la levietta di sinistra che abbiamo scoperto essere un termostato sembra che in precedenza era qui gli abbiamo dato una mezza tacca in più è sempre a livello 1 per qualche giorno avevamo fatto un tentativo di cambiare il settaggio del timer facendola andare per un'ora con due ore di pause ma il risultato più o meno era lo stesso se non minore perché forse con le pause più lunghe si raffreddava di più quindi abbiamo riportato a mezz'ora ogni due ore quindi mezz'ora accesa un'ora e mezza di pausa il risultato ci sta dando molte soddisfazioni il dolce davide marchesi amico e sostenitore del progetto entelechia oltre che partecipante del progetto per la custodia dell'agrobiodiversità e la sovranità sementiera avendo visto questi video ha detto che ci sta preparando una sorpresa da testare nei prossimi giorni in alternativa a questo sistema che abbiamo trovato però per adesso come si può vedere sta funzionando perché quasi tutto sta nascendo quelle varietà che probabilmente avevano bisogno di più temperatura per nascere come questi pappacella stanno spuntando adesso come i fatali la in fondo come in aga chocolate mentre per il resto tutto va alla grande con piccola osservazione sui germogli di ocra che sembrano eziolati non in termini di di filamento non che stiano filando però in generale sembrano più gialli di verdi è come se non stessero sintetizzando clorofilla hanno queste venature rosse al centro molto artistiche però per adesso sono gialli stiamo partendo ancora una volta con il piede sbagliato per quanto riguarda gli ocre è una pianta che non riesco mai a fare con successo però vediamo se se è la loro caratteristiche essendo una varietà che abbiamo seminato per la prima volta o cosa il dolce luigi de angelis ce lo farà sapere molto presto per adesso tutto buone semine buon attimo presente e vi vogliamo bene tanti bacetti